I giovani escono dalla scuola e devono trovare un'occupazione, devono anche non essere troppo chiusi, come dicono gli inglesi. I giovani devono abituarsi all'idea che non avranno un posto fisso per tutta la vita, del resto, diciamo la verità, che monotonia è un posto fisso per tutta la vita. Dobbiamo fare lo sforzo e ci mettiamo avanti di comunicare con i miei sacri dei miei figli. Da 48 anni non abbiamo ancora laureato, non abbiamo scoperto. Ma lei ha un suo figlio di 20 anni, laureato, guadagna 5 euro l'ora in un call center. Cosa gli direbbe? Vai via dall'Italia? Ehm... 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 Ehm...